Alessandro Cipriani, capitano degli giovanissimi 2001, un campionato bello tosso, però lo state affrontando alla grande. Sì, è una bella stagione, l'obiettivo dei regionali è stato bello centrarlo, abbiamo affrontato un bel campionato, stiamo continuando bene, abbiamo vinto delle sfide importanti. C'è qualche partita invece che vi ha lasciato un po' di amaro in bocca? Sì, bisogna ancora migliorare molto perché qualche partita non è andata proprio bene. Come sta andando in generale invece il tuo di campionato? Ti senti cresciuto al di là dell'età naturalmente, sono passati alcuni mesi, però a livello di preparazione, di gioco anche proprio? Sì, io come tutta la squadra siamo migliorati molto, con il mister ci troviamo tutti molto bene. So che lavorate anche bene con Schincaglia? Sì, sì sì. Ne parlate spesso in FTS, spesso presente? Sì, è bello fare gli allenamenti con Schincaglia. Insomma, queste partite che dovete poi affrontare, c'è qualche squadra in particolare che temi di più? Tutte le partite sono da giocare con la stessa mentalità, sempre con grinta e comunque tutte le squadre sono da considerare un avversario toss. Se dovessi fare un pronostico, fine campionato, una classifica, primo, secondo, terzo, dai. Sì, spero nelle prime posizioni. Per ora siamo già messi bene in classifica, cercheremo di migliorare ovviamente e speriamo per le prime posizioni. E contro chi, secondo te, potreste giocarvela? Sì, ma lo Spartanovara è una bella squadra, anche l'Alpignano sono due belle squadre che sono quelle davanti a noi. E voi? E noi.